Quando il governo, e non ho detto che questo sia in Italia, quando il governo adopera la paura, e ne abbiamo mille motivi, adopera la paura anziché per stabilizzare, per destabilizzare e per destabilizzare al fine di avere ancora più potere, allora qui sta capitando qualche cosa. Sta capitando il passaggio da regimi emergenziali a un quasi regime d'eccezione. E questo è una contraddizione interna alla democrazia rispetto alla quale non si può fare altro che alzar la voce, dirlo, possibilmente senza dire sciocchezze, senza negare l'evidenza, senza negare l'emergenza quando c'è. E tuttavia dirlo, dire, attenzione, il nostro obiettivo deve essere la normalità, non l'emergenza. Perché la nostra Costituzione, giustamente, dice che l'Italia ripudia la guerra, il che significa come strumento di violazione della libertà dei popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Che vuol dire, sostanzialmente, che lo Stato italiano rinuncia al diritto che ha ogni Stato di fare la guerra. Rinuncia. Vi può rinunciare perché ce l'ha. Io non posso rinunciare a possedere una Ferrari perché non ce l'ho, per cui sto dicendo una sciocpezza. Se invece dico rinuncio a possedere la mia automobile, ha senso. E vi rinuncio davvero. Tra l'altro, questa rinuncia è il biglietto di ingresso indispensabile per entrare nell'ONU, che è un'organizzazione di stati sovrani che ha come obiettivo quello di eliminare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, cioè di togliere alla sovranità uno dei suoi strumenti, la guerra, mentre lascia alla sovranità altri strumenti. Bene. Naturalmente la nostra Costituzione continua a parlare di guerra, continua a descrivere chi la decide, chi la proclama e chi la conduce. Perché tiene in considerazione due ipotesi, la guerra difensiva prima di tutto e poi la guerra che il Paese fa in quanto è coinvolto in una grande coalizione a fini pacifici, coalizione che tuttavia possa essere impegnata in una guerra. Per cui non siamo nel pacifismo assoluto, proprio a livello costituzionale. Ma insomma, il punto vero è che la politica con la guerra ha qualcosa a che fare in modo strutturale, cioè la politica è esposta alla guerra. Noi siamo una media potenza, forse piccola ormai potenza, siamo relativamente poco in grado di decidere sovranamente sulla guerra e sulla pace. Ma questo non vuol dire che in questo pianeta non esistano invece grandi potenze che sono ben in grado di decidere sulla guerra e sulla pace e lo fanno. E quando lo fanno può capitare che centriamo anche noi. E allora, quando centriamo anche noi, è veramente avvilente assistere alla contrapposizione. Come al solito il paese è spaccato, non sulla base di una dialettica argomentativa, ma sulla base di fideismi. Da una parte cieco fideismo nelle ragioni dell'uno e dall'altra cieco pacifismo. Questo ci condanna naturalmente a essere un paese subalterno, passivo, che non elabora un pensiero, non è capace di elaborare una linea di condotta. si fa prendere dal tifo perché non sa giocare al pallone. La guerra è semplicemente il fatto che la politica entra nella storia, sta nella storia. Quando uno sta nella storia non è che può fare tutto quello che gli pare. Purtroppo, se vogliamo, diciamo purtroppo, mille volte purtroppo, ma insomma qui o si ragiona in termini di guerra giusta o si ragiona in termini di guerra reale. guerra giusta vuol dire non solo chi ha avarcato il confine viene rispedito indietro, ma viene anche costretto a pagare i danni e i suoi capi vengono pure processati. Certo, basta riuscirci. E se abbiamo in mente solo questo sbocco, che cosa facciamo? Facciamo guerra a oltranza? Cresciamo continuamente lo sforzo militare? Fino a che punto siamo disposti a spingerci? Perché qui bisogna poi parlare seriamente. Fino a che punto noi vogliamo che Putin torni indietro? Quanti carri armati vogliamo impegnare? Quante armi? Combattiamo fino all'ultimo ucraino? O ci andiamo anche noi? Parliamo seriamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, se invece uno ha in testa una visione pochino più complessa della storia e del mondo del rapporto tra guerre e politiche, prima di tutto si dispiace molto che la cosa sia stata portata fino a questo punto. E in secondo luogo non vede altra soluzione che un compromesso. Cioè, la vogliamo far finire questa guerra o vogliamo andare avanti per l'eternità? No. Però il realismo sì. Il realismo sì. Qui non si tratta di dire da che parte stiamo, perché non importa poi a nessuno da che parte stiamo. Quello che importa è che cosa vogliamo, che tipo, come sempre, che tipo di pace abbiamo in mente. O non abbiamo mai in mente la pace, abbiamo in mente soltanto la guerra, ripeto, fino a quando tutti i russi vengono respinti al di là del confine e vengono costretti a pagare le sanzioni, le riparazioni di guerra e i loro capi vengono processati da un tribunale penale internazionale. Questa è la guerra giusta. Vogliamo fare questo? Lo diciamo. Mettiamo in conto che a un certo punto quelli magari cominciano ad operare le bombe atomiche? Oh, e questa è la prima cosa. Oppure chiamiamo il capo davanti alla prepotenza. Diciamo che è stata una serie mostruosa di errori ha portato a questa cosa. Speriamo che non si ripeta. Ricordiamo che la Germania è stata per 50 anni spaccata a metà e che la Corea è da 70 anni spaccata a metà e che il compromesso fa parte della nostra vita per molto ancora di più per della vita della politica. O noi partiamo con una guerra giusta contro tutti coloro che fanno qualche cosa che non ci piace? Chi è che è il bellicista a questo punto? Chi è che sta dicendo cose che o sono fuori dal mondo o sono pericolosissime per il mondo? Qui bisognava evitare che questa guerra cominciasse non adesso che è cominciata a dire che si va avanti per l'eternità. Ripeto, perché prima o poi gli ucraini finiscono e allora ci andiamo noi? Di che cosa stiamo? E se invece noi cominciassimo a ragionare che cosa vuole davvero Putin? Perché lo vuole con le armi? Quale tipo di ordine europeo si può configurare? Di che cosa c'è bisogno lì? Vogliamo tenerci una ferita purulenta per l'eternità? Il mondo è cambiato. Chi vuole che il mondo cambi in modo tale che la Russia si schiacci completamente sulla Cina? Ci conviene? Kissinger ha fatto tanta fatica a separarle e noi le vogliamo riunificare? Insomma, ci sono molti problemi dietro. Non c'è soltanto quello che... Il livello del diritto internazionale che è quello che ci consente di dire aggredito aggressore è uno soltanto dei livelli con cui si... Chi vuole fare politica e non propaganda deve confrontarsi. Poi, se vogliamo dire che è male invadere i paesi sovrani sono il primo a dirlo, visto che credo nella sovranità. Però è anche male una volta che qualche cosa è cominciato non pensare a come farlo finire. Se non con la estinzione fisica di uno dei due facciamo estinguere la Russia?